scendeva dalla soglia ad uno di quegli usci e veniva verso il convoglio una donna il cui aspetto annunziava una giovinezza avanzata ma non trascorsa e vi traspariva una bellezza velata e offuscata ma non guasta da una gran passione e da un languor mortale quella bellezza molle a un tempo e maestosa che brilla nel sangue lombardo la sua andatura era affaticata ma non cascante gli occhi non dava lacrime ma apportava un segno d'averne sparse tante c'era in quel dolore un non so che di pacato e di profondo che attestava un'anima tutta consapevole e presente a sentirlo ma non era il solo suo aspetto che tra tante miserie la indicasse così particolarmente alla pietà e ravvivasse per lei quel sentimento ormai stracco e ammortito nei cuori portava essa in collo una bambina di forse nove anni morta ma tutta ben accomodata con capelli divisi sulla fronte con un vestito bianchissimo come se quelle mani l'avessero addornata per una festa promessa da tanto tempo e data per premio ne la teneva giacere ma sorretta a sedere su un braccio col petto appoggiato al petto come se fosse stata viva se non che una manina bianca guisa di cera spenzolava da una parte con una certa inanimata gravezza e il capo posava sull'omero della madre con un abbandono più forte del sonno della madre che se anche la somiglianza dei volti non avesse fatto fede l'avrebbe detto chiaramente quello dei due che esprimeva ancora un sentimento un turpe monatto andò per levarle la bambina dalle braccia con una specie però di insolito rispetto con un'esitazione involontaria ma quella tirandosi indietro senza però mostrare sdegno né disprezzo no disse non me la toccate per ora devo metterla io su quel carro prendete così dicendo aprì una mano fece vedere una borsa e la lasciò cadere in quella che il monatto le tese poi continuò promettetemi di non levarle un filo dintorno né di lasciar che altri ardisca di farlo e di metterla sotto terra così il monatto si mise una mano al petto e poi tutto premuroso e quasi ossequioso più per il nuovo sentimento da cui era come soggiogato che per l'inaspettata ricompensa sa facendo a fare un po di posto sul carro per la morticina la madre data questa un bacio in fronte la mise lì come solo un letto ce l'accomodò le stese sopra un panno bianco e disse l'ultime parole addio cecilia riposa in pace stasera verremo anche noi per restare sempre insieme prega intanto per noi ch'io pregherò per te per gli altri poi voltatasi di nuovo al monatto voi disse passando di qui verso sera salirete a prendere anche me e non me sola così detto rientrò in casa e un momento dopo s'affacciò alla finestra tenendo in collo un'altra bambina più piccola viva ma coi segni della morte in volto stette a contemplare quelle così indegne esecue della prima finché il carro non si mosse finché lo poteva vedere poi disparve e che altro poteva fare se non posar sul letto l'unica che le rimaneva e mettersela accanto per morire insieme come il fiore già rigoglioso sullo stelo cade insieme al fiorellino ancora in boccia al passar della falce che pareggia tutte le erbe del prato